Franco Pellizzotti, il campione italiano, start list importante qua al Gran Piano Città di Camaiore, ma l'Androni sembra essere attrezzata per far bene. Ma sì, è una corsa un po' diversa dal solito, prima si correva d'estate col caldo, e siamo qua a febbraio, una bella giornata comunque, una start list veramente bella, grandi campioni alla partenza, quindi data azzeccata, e niente, la squadra sarà molto competitiva come sempre, e cercheremo di ottenere un bel risultato anche oggi come nelle ultime corse. Tra l'altro è la fortuna di correre per due volte con la maglia di campione italiano nella stessa corsa. Chi sarà il vostro capitano? Sarete tu la punta unica oppure correrete di squadra? Ma no, come sempre correremo di squadra, in questo momento abbiamo Reda, forse che è quello che ha dimostrato di avere una condizione migliore di tutti, e cercheremo magari nel finale di avvantaggiare lui. Ok, grazie mille. Prego.